Il marzo donna quest'anno è stato nutrito di eventi, partendo da una mostra di pittura di una donna caparbia e determinata. E questo è stato il biglietto da visita. Poi questa settimana, da sabato, è iniziata proprio la settimana della prevenzione. Prevenzione sanitaria. Abbiamo cominciato con le mammografie in centro, abbiamo fatto lo screening reumatologico della mano, poi c'è stata la serata tiroide, questa sera questa bellissima iniziativa del conoscere il tuo seno e finiremo anche con i consultori ieri, oggi e domani. Quindi prevenzione innanzitutto e soprattutto consapevolezza che le donne vengano e si sentano accolte. E quindi per noi, per le donne di Moliano, ci siamo e vediamo che le donne rispondono. Tutte le sere la sala è stata piena e anche domenica abbiamo dovuto indire un'altra giornata perché non eravamo su... erano talmente tante le donne che avevano aderito che dobbiamo ripetere l'evento. Abbiamo tante donne coraggiose, molte di queste hanno affrontato, stanno affrontando la malattia. Il messaggio che vuole dare un'amministrazione comunale in questo contesto? Allora donne, non abbiate paura del vostro corpo, ascoltatelo. Siate attenti a tutto quello che il corpo vi dice e andate a fare prevenzione perché prevenire è meglio che curare. Non temete.